I commercianti di Riviera Paleocapa a Padova, che in questi mesi stanno subendo gli effetti del cantiere del ponte, che è stato chiuso e ha diviso in due parti il quartiere, chiedono al Comune di Padova che anche per loro vengano applicate le riduzioni dell'imposto della Tari, come è stato disposto per i commercianti che invece affacciano sulle strade chiuse per i numerosi cantieri del tram. Tuttavia questa ipotesi non è attuabile nel loro caso, come spiega l'assessore al commercio Antonio Bressa. Queste agevolazioni le abbiamo introdotte secondo la normativa nazionale, che prevede che si possano mettere in campo lì dove ci sono dei cantieri che durano da un lato più di sei mesi, ma dall'altro che vanno proprio a chiudere completamente le strade. Questa è la particolarità dei cantieri del tram, cioè lì noi abbiamo strade intere che per settori vengono completamente chiuse. Entro fine aprile dovrebbe entrare in funzione la passerella piedonale provvisoria per riunire nuovamente Rivera Paleocapa con la specola. I lavori stanno proseguendo, mentre quelli per il restauro del ponte dureranno almeno fino al 2025. Invece lì dove c'è in corso il cantiere, i lavori per il ponte Paleocapa, è evidente che ci sono dei disagi e sicuramente si ripercuotono sulle attività economiche, quindi siamo loro vicini e qualsiasi soluzione che si possa utilizzare siamo disponibili a metterla in campo. Però nell'ambito dell'applicazione di questa normativa per i sostegni ai negozi che sono di fronte ai cantieri non siamo in un ambito in cui si possa applicare questo stesso tipo di approccio che abbiamo per il tram. Grazie a tutti.